Ciao ragazzi, oggi sono qui in questo breve video come avete visto dal titolo per aderire anch'io a questa iniziativa diciamo creata e partita da CiccioGamer89 e Tom's Hardware riguardo appunto al terremoto che c'è stato nel centro Italia nella notte tra martedì e mercoledì ora non sto qui a dirvi cosa sia successo perché credo l'avete sentito dalla maggior parte degli youtubers che hanno fatto questo video e quindi ragazzi volevo dirvi di donare anche voi qualcosa per dare anche voi un contributo perché davvero potrà cambiare, anzi può cambiare la vita di una persona potete donare al numero 45500 2 euro oppure ragazzi potete donare dai 5 ai 500 euro ovvio non vi vado a dire di donare così tanto però ragazzi il minimo di 5 euro secondo me potrete farlo davvero tutti ovviamente vi lascio da qui sotto in descrizione il link per donare questi soldi state tranquilli CiccioGamer e Tom's Hardware ci sono incaricati appunto di portarli a un ente che appunto è lì nella zona del terremoto e sta dando una mano come ad esempio la protezione civile o comunque la croce rossa comunque state tranquilli che questi soldi arriveranno a loro quindi niente ragazzi volevo farvi questo piccolo video perché ho trovato giusto farlo e niente noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video bella bella Grazie.